Questa è una delle mie ultime buste paghe. Diciamo che l'importo si aggirava intorno alle 1.600-1.700 euro. Dal primo agosto ci siamo ritrovati in agenzia e l'importo è stato quasi dimezzato e abbiamo percepito intorno alle 704 euro. Nino Cadile dopo dieci anni da carrellista nel porto di Gioia Tauro dalla scorsa estate nell'organico della SRL voluta dal governo. Un purgatorio che vive assieme agli altri 363 colleghi licenziati dalla MedCenter fra i quali Domenico Battista, un altro portuale col quale condivide la scelta di tagliare con i sindacati che l'agenzia l'hanno voluta. Nei giorni in cui la CGL proclama anche per loro lo stato di agitazione perché l'agenzia non controllerebbe le assunzioni nell'area portuale, Nino e Domenico il sindacato non lo contestano più. Hanno invece impugnato il licenziamento davanti al giudice formando un comitato che sta seguendo passo passo le attività dell'agenzia riconoscendone i limiti e la crisi del contesto. L'ente dovrebbe ricollocare, cercare di ricollocare gli operai, fare dare questa indennità di mancato avviamento a tutti gli iscritti all'agenzia. Le aziende più grosse che potrebbero e dovrebbero chiamare sono le stesse che hanno comunque licenziato gli operai. Fotografie del realismo operaista che ora al bivio a cui è giunta l'agenzia fa provare ai due disoccupati sensazioni diverse opposte rispetto all'ente che ha in carico la loro speranza di tornare al lavoro. Passavano dei messaggi diversi e poi tutto questo in corso d'opera è cambiato ma in negativo purtroppo. Io credo che questa società sta crescendo piano piano e così facendo riuscirà ad ottenere tutti i risultati. Qua ci vuole anche, secondo me, un forte impegno politico. Agostino Pantano per la CNews24